una giornata di calcio di mondiali veramente pazzesca regà in ogni senso anche quelli più strani anche quelli più inaspettati sto ancora ripensata argentina rabbia saudita ma non solo poi le partite del pomeriggio mamma mia e poi in chiusura ovviamente la partita tra francia e australia adesso analizziamo tutto non ho fatto il post partita della dinamarca tunisia e messico polonia quindi due paroline le dirò ovviamente andrò rapidamente ad analizzare anche la situazione di classifica che sta maturando nel girone ma andiamo per gradi e con calma ciao bentornati e ben ritrovati lasciate mi piace per supportare i miei contenuti calcistici vi ricordo che lasciate mi piace gratis più ne lascerete più mi invoglierete a fare tanti post partita sui mondiali se domani li volete tutti c'è stanno tante partite clamorose c'è la germania c'è la spagna c'è il belgio iscrivetevi attivate la campanella così non vi perdete mai neanche un video perché vi arriva la notifica sul cellulare quando pubblico ma c'è un secondo canale youtube di calcio e lì oggi è uscito il parere di fabio su argentina arabia saudita per quello vi dico seguitemi su entrambi i canali in modo tale che non vi perdete niente c'è un canale youtube extra calcio perché lo sapete non vi faccio mancare nulla tutti i canali in descrizione durante il video compariranno qui rapidamente due paroline su danimarca tunisia e messico polonia allora non mi aspettavo una tunisia così cattiva una tunisia così vogliosa in realtà forse all'opposto mi aspettavo una danimarca un po più danimarca per quello che abbiamo visto no negli ultimi periodi da parte di questa nazionale qualcuno mi dirà eh ma cornelius se se magna i colla porta voda è la partita ma la tunisia non è stata da meno è stata una squadra che ha giocato al calcio e che più di qualche grattacapo dalle parti sa di denogliere come si chiama? De Schmeichel no? eh sicuramente le ha le ha creati si chiama Schmeichel si mo ci ho avuto un attimo tutti sti portieri una cosa una nonna e una zia quindi alla fine secondo me il risultato è anche giusto no? un pareggio certo uno si aspetta sempre lo spettacolo si aspetta sempre tante reti e per uno che è rimasto a casa a guardarsi questa partita ha detto mamma mia poteva perché è il gol che fa la differenza no? seppur le occasioni alla fine le danno quella però il gol fa è ok per quanto invece riguarda mamma mia rega vi giuro che ci sono tanto rimasto male per Lewandowski perché non solo questo calcio di rigore è sbagliato eh poi non so se lo sapete ma in un mondiale non ha mai segnato quindi sarebbe stato il suo primo gol in assoluto che probabilmente avrebbe regalato anche la vittoria alla Polonia che probabilmente sarebbe stata anche abbastanza ingiusta perché se andiamo a guardare il Messico se non ricordo male soprattutto nel primo tempo ha fatto più della Polonia e Scesni ha fatto un paio di interventi importanti però porca miseria ragazzi ma veramente c'è una maledizione sto ragazzo l'anno che doveva vince a mani bassa il pallone d'oro non lo vince annullano l'edizione del pallone d'oro però vi motivi che ormai conosciamo e che so a tutti i noti una situazione del genere te li trovo io ho visto un po' accorfiato sul collo non so se l'avete notato mentre stava per battere il calcio di rigore si vedeva che faccia fa esercizi di respirazione secondo me un po' ne ha risentito dal punto di vista psicologico anche i grandi campioni sentono il peso di situazioni sarebbe stato il primo gol lo ripeto in un mondiale c'ha possibilità sicuramente di rifarsi quello sì è la prima partita ce ne ha minimo altre due però e va bene alla fine ci sta anche in questo caso il pareggio onestamente il Messico io ve lo ribadisco l'ho già detto in un altro contenuto è un'ottima squadra è una squadra che può assolutamente dire la sua è una squadra che sa giocare un buon calcio è propositiva e sotto alcuni versi è anche abbastanza equilibrata quindi dai 0-0 du palle come da casa ma alla fine non possiamo dire che è stata una partitaccia come un'altra che non mi ricordo che sto a vedere tutte ma c'è stata una partita proprio il nulla quella dell'Olanda che poi ha fatto Ducoma inguardabile sotto ogni punto di vista tantissimi errori tecnici e tattici rapidamente la situazione del giro e poi passiamo a sta Francia ragazzi Arabia Saudita prima a tre clamorosamente dopo una giornata con Polonia Messico a 1 e Argentina ultima a 0 è un qualcosa di clamoroso ne ho parlato sul secondo canale con il buon Fabio delle possibilità di passaggio agli ottavi di finale da parte dell'Argentina vi ricordo che passano solamente le prime due lì abbiamo analizzato bene la situazione mi farebbe piacere qualora andaste sul secondo canale ad ascoltare quello che è stato il nostro parere no comunque al contrario praticamente avrebbe dovuto vincere l'Argentina ma poi l'Argentina ma alla fine è stato giusto così per quello che ha dimostrato l'Arabia Saudita e per quanto riguarda il girone aspettate un attimo classifiche sì il girone tra Francia Danimarca Tunisia Australia lo analizzo tra poco perché ovviamente devo prima parlare della partita della Francia e c'è tanta Italia in questa partita della Francia ma un qualcosa di clamoroso all'interno di questa partita è accaduto e nessuno se lo sarebbe mai immaginato anzi forse qualcuno poteva immaginarselo oggi non ce l'ho a parlare poteva immaginarselo perché era già successo con l'Arabia Saudita no le cabale che si riverificano una squadra nettamente inferiore una nettamente superiore dal punto di vista psicologico una che prova d'attaccare non riesce a segnare dopo nove minuti pimpi di pimpi di ripartenza una palla messa a mezzo gol dell'uno a zero e Lucas Hernandez che si fa male e là lì per lì vi dico la verità l'ho pensato ho detto ma non è che questi zitti zitti che fanno scherzetto poi però ho visto una Francia troppo promositiva ho visto un Kylian Mbappé troppo regà voglioso di fare il risultato di fare qualcosa di importante ho detto ma sa che è solo questione di tempo prima che la Francia prenda definitivamente in mano le retini di questa partita e la indirizzi a suo favore che ho detto io a inizio da qualche parte ho detto chi mi segue lo sa ho detto fate attenzione a Rabiot che sicuro segna ma potrebbe diventare capo in maniera provocatoria però ho detto potrebbe fare più di qualche gol mancano centrocampisti importanti manca Pogba manca Kanté c'ha la possibilità di giocata titolare sta diventare uno che si inserisce in una maniera di quelle assurde Teo Hernandez gli fa un assist veramente Teo Hernandez per Rabiot assist al bacio la capoccia la palla che entra in rete e gol dell'uno a uno ho detto vedrai che segna Olivier Giroud quanto ci ha messo per segnare Olivier Giroud qualche minuto e l'assist chi glielo fa? glielo fa proprio a Trien Rabiot sul punteggio del 2 a 1 regà io l'ho detto la partita è bella cannata non non credevo minimamente no ma poi si vedeva proprio negli atteggiamenti l'Arabia Saudita è stata diversa contro l'Argentina per tutta la partita è stata molto più aggressiva molto più l'Australia aveva mollato qualcosa dal punto di vista mentale non ce vedo più ma io vi lancio la sfida vabbè De Giliam Bappé ragazzi c'è bisogno di parlarne gol assist è un calciatore che ormai conosciamo non sorprende non deve sorprendere non può sorprendere ma per un Benzema che non c'è regà ma veramente perché io sentivo tante persone dire ah l'assenza di Benzema io tra me e me pensavo per carità Giroud non sarà Benzema eh però a me mi sembra proprio il sostituto perfetto di Karim Benzema ed è quello che ha dimostrato stasera ragazzi i gol li fa affiotti e fate attenzione per il titolo il titolo di capo cannoniere per Olivier Giroud perché regà gioca con una nazionale importantissima che sa segnare tante reti ed è lui il terminale offensivo titolare del riferimento là davanti fate particolare attenzione è stato tanto sottovalutato ma lui semplicemente continua a dimostrare quello che è il suo valore non lo scopriamo oggi ragazzi è la riserva perfetta ed è il titolare perfetto perché sostituisce a dovere i titolari ma in una maniera regà di livello incredibile al Milan l'Ibrahimovic della situazione seppur ormai Ibrahimovic i diffusi del Milan si sono pure scordati com'è fatto però questo è il risultato un calciatore veramente strepitoso sotto ogni punto di vista e la situazione declassifica prima che mi dimentico la Francia fa quello che deve fare e vince Danimarca e Tunisia se la pattano e ci può anche stare seppur mi aspettavo alla fine una vittoria della Danimarca e l'Australia ovviamente che perde la prima tutto ancora apertissimo diciamo dai niente poi così clamoroso in questo girone mi piace commentate condividete iscrivetevi a tutti i canali social in descrizione contenuti consigliati se beccamo alla prossima con un nuovo video giornata pazzesca comunque al netto di tutto quello che è successo tranne due partite centrali ma mi sono veramente divertito ciao